Grazie a tutti. Provincia di Bari. La politica ci dia una mano. Io sono il presidente di un'associazione di categoria come la Confcommercio che cerca di appoggiare poi questo evento anche perché non ci prendiamo in giro, diventa un pretesto per fare marketing territoriale, diventa un pretesto per poter sviluppare l'economia della città. Lo diceva qualcuno prima di me, sicuramente dobbiamo fare lo studio storico, lo studio scientifico per poter fare una rievocazione storica quanto più vicina possibile a quello che è l'evento. Però cominciamo da un pretesto per poi approfondire e arrivare a fare degli eventi di qualità. Da soli però dei volontari non ce la possono fare perché hanno sicuramente la necessità di avere degli appoggi. Io penso che anche l'Anci potrebbe darci una mano, anche perché moltissimi sono i comuni d'Italia che hanno rievocazioni storiche, per cui adesso il presidente è il nostro barese De Caro, dove anche a Bari c'è una rievocazione storica importante. Potremmo cominciare anche dai sindaci, dai comuni e poi pian piano arrivare più in alti ad ottenere qualcosa. Grazie per aver costituito questi stati generali delle rievocazioni storiche. Cercheremo di essere tutti più uniti e coesi possibili. Grazie.